Diari Algarese di tutti i mesi, pensamenti di Franceschi Franco Masia. Nel virtual, e sempre a Facebook, intanto vanno a pubblicare pa, il pa che mangiamo, ma poi vanno a pubblicare anche il feto, la mia propria farina. Buon dia e bentornati a voi, 30 d'abrile 2021, saluti tutti, ascoltarossi Facebook, CatalanTV. Lo santi del dia, San Pio Cinchi Papa, nasce al 1504 a Bosco Marengo, mori a Roma al 1572. De Patite frequentava un convento dei dominicans. A Granet entra nell'Olda, durante lo suo pontificato, la fe cristiana era manassare dell'eresia luterana e proprio a una chiesa aiuta s'era dedicata. Aveva benaito l'esercito riunito dei principi cristiani per fermare l'invasione dei Sturz, che all'epanto, in una sanguinosa battaglia, i musulmani perdono la guerra. Per l'occasione, fa istituire la festa del rosario. Lietra di un infalmè impegnato nell'aiuto al coronavirus. Oramai, sono già vinti dias che la signora Calmina es ricoverara. Esa stare presa da questa brutta bestia di virus. Grazie a Dio, nas sta inscinta poco a poco. Prova donna, ma domanda continuamente di accedere la figlia, che venga a riprenda e portarla a casa, ma non sa pot. Es preoccupare perché la figlia trabalha tutto il dia, e le tre nette le usa la tua java e lei. Vuola preparare qualche tolta o crustara, donare un regalo per i anniversari dei nette, con sempre qualche erro a rinzi di una busta, ma non sa pot. Voi che arriva a fare due passi al gialdì, a sottare in casa, giocare a metà, ma non sa pot. Avui es esalzara, negli tutti, a stare a me sb. Non li ho fatti mai. Li abrassara, senza por, senza risparmi. Era mesi che non abrassava ningù a rinzi del hospital. Tanto cos'altro non si può fare, lo virus. Parascevano due innamorati, e accocoggiato il capo al suo, pintato dai cabelli di prata, intesa che il profumo della sua vestaglia, che teniva la mia mia, e che il profumo antico che gli era nel sabbis, in casa, panciato in regia della polta. A quegli abbrassi si è potuto fare. Despre escire dalla sua apposentità, ma ferma e mi ha detto, e tappa, tajua, che se smassa a giugir, te potevano un copeto. Asci, foraditi, tambi la mia, pensi che, ili es un tresor, nella sofferenza, e un tresor, anfiniti nera d'oro. Maneras de diura l'algué di Vito Loi, se a casa tua li entra tanta B, da mana D o un V, lo significato è abbastanza comprensibile, soprattutto, per gli aspetti morali che comporta. Desserti a voi, a quei proverbi, farà rigura tanti, se consideriamo che, secondo l'opinione comune, è una persona screpurosa, che deve essere l'ultima delle preoccupazioni. riferiamo ai bensi materiali, e è come una valtencia, che mi posa in guardia. A voi giornali, televisioni, mi parla di persone, che si trobano a casa, o munire in banca, senza che ningu sappia come ha fatto. D'asgraciatamente, abbiamo di constatare, che questo fenomen, è sempre più frequente, a tal punto, che non fa più notizia, o ancora peggio, provare l'indifferenza di raggiungi, che arriva, fino a trovare una giustificazione, al comportamento, di certe persone. È certo, che i proverbi, sono la sintesi della saviesa popular, e conservano attualità e valore. Per questo, fai finta dei sarchegos. Coronazione di Nostra Senora di Veeveld, sono passati 85 anni, la prima notizia documentale che abbiamo, la troviamo in un verbo di giuntas, del capitolo della Cattedrale dell'Alghè, volta la data del 29 gennaio 1934, a seguito l'approvazione del capitolo di San Piero, a malacquisto di un organ per la Cattedrale di Santa Maria. Per l'occasione è stata emanata, nel 1934, una cartolina postal commemorativa. Lo 26 di maggio 1935, la commemorazione è stata affetta, solennemente, alla presenza di tutti gli bisogni della Saldegna, e di una moltitudine di Alghèresi e fideli, arrivata all'Alghè di tutta la Diocese. Fauna del territorio dell'Alghèresi, gallinetta del rio, che in Italia avvisa il porciglione, che vede il polco. È un paldal patito, nella parte superiore, che ha il cuore bravo, o riva, con attacchi negri, e nella parte di sotto, i capi bravo, con barras negras e brancas, a costa. Valmè, la scuola, bica e lunga, e tipica delle zone umide, gli ati, i canali, i rius, potessero migrare. È più facile di ascoltarlo, e non lo vedere. Il suo canto, si accompagna di una ricca varietà di sondi, che include un critico malpolcro, ecco perché in Italia avvisa il porciglione. Costruisce lo nio, sopra la vegetazione acquatica, e utilizza nio di altos paldals, si alimenta di ansettos, animali, acquati, e si ammanassati della contaminazione dell'acqua, e espruttigida la specie. Parabolas della nostra lingua, crocchi, crocchi, che vuol dire, che sta per capitare, che sono pronti per sussare, esempio, gli usi della lingua sono crocchi, crocchi, da ma, tannino, gli spuglietti, si scrive, crocqui, e si pronuncia crocchi. Rondaglia, il pacchetto di basquetti, del web, adattamento alla garaes, una mignona alla stazione, stava guardando un tren, per portarla a casa, gli avvia ancora un'ora per partire, a sci compro un libro, per gli gi, e un pacchetto di basquetti, e si serve in una caria, di una borsa, una tra loro il libro, e nell'altra caria, a fianco, riposa, ad amonti la borsa. all'ora, della corsa ultima, si serve un anzià, e gli andanti, prendono un basquetti, e anche l'anzià, ne prendono un. la mignona, si sente un po' più arrabbiare, in questo punto, e stava scopiando, lo vede, prende l'ultimo basquetti, lo dividi, a metà, Michel e Michele, a questi punti, prendono la borsa, e si va a indignare, e si serve in un'altra parte, apre la borsa, per prendere il libro, e vede, che il suo pacchetto di basquetti, era in terra, aveva compreso, che il pacchetto, era uguale, a quello dell'anzià, e l'era, l'aveva divinita, ma egli, senza indignare, al contrario, che buffava, come una pivara, se l'anzià, pensava scusare, non lo trova. Quantas voltas, aveva mangiato, los basquetti, de un altro, senza sabelo, prima di arrabbiar, de arribar, dunnano, prima di arribar, conclusionzi, senza senso, o pensamal, de las palzonan, de las palzonan, esaminim, bellas cosas, de frequenti, no son, como apareixan, l'apparenza, angagna. Cistus Algaresius, e Cirofada, farmacista, Analgares, Butacari, era un pascaro de gambara, che vaneva, come esca, la gambara la vaneva, als altres, teniva una tal precisió, quam passava, ma rasmanzi, també, quantitats, mínimas, o pocas, gramas, proprio mínimas, che per això, paraceva un farmacista, che generalmente, pesa a gramas. ringrazio, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, e viure. Grazie a tutti.